ciao a tutti e bentornati su about biology nello scorso video avevamo parlato della forma degli orbitali e della configurazione elettronica i chimici del diciannovesimo secolo però non erano a conoscenza dell'esistenza di elettroni e protoni ma avevano a disposizione delle misure molto accurate delle masse atomiche di molti elementi per questo arrivarono i primi modelli di tavola periodica in cui gli elementi furono disposti secondo la loro massa atomica nel 1869 il chimico russo dimitri ivanovich mendeleev e il tedesco lothar meyer proposero indipendentemente l'uno dall'altro una classificazione più accurata degli elementi basata sulla ricorrenza regolare di alcune loro proprietà ogni elemento chimico è individuato tramite un nome e un simbolo costituito da una o due lettere che generalmente sono ricavate dal nome inglese o latino e una cosa importante è che la prima lettera è sempre maiuscola mentre invece la seconda se presente è sempre minuscola nella moderna tavola periodica gli elementi sono disposti in ordine di numero atomico crescente in delle righe orizzontali che sono chiamate periodi e i periodi sono indicati con numeri arabi ovvero quelli che usiamo nella vita di tutti i giorni e questi sono riportati a sinistra della tavola periodica le colonne verticali della tavola periodica sono chiamate invece gruppi e sono indicati con numeri romani e con la lettera a o b gli elementi dei gruppi a sono chiamati elementi rappresentativi e hanno gli elettroni più esterni negli orbitali s o p mentre invece quelli dei gruppi b sono detti elementi di transizione dato che hanno il sottolivello d parzialmente riempito se non ricordi questi concetti ti consiglio di riguardarti gli altri video della playlist e soprattutto gli ultimi due che ho fatto sugli orbitali atomici ti lascio in ogni caso il link qua sotto in descrizione e le schede qua in alto a destra questo per dire che anche la disposizione degli elementi nei gruppi non è casuale un gruppo per definizione è una colonna verticale della tavola periodica e raccoglie gli elementi che hanno delle proprietà chimiche simili e in particolare gli elementi di uno stesso gruppo hanno la stessa configurazione elettronica esterna ovvero lo stesso numero di elettroni nel livello energetico esterno e questo viene definito livello o guscio di valenza e gli elettroni che ci risiedono sono detti elettroni di valenza la tavola periodica può essere divisa anche in blocchi c'è infatti il blocco s che comprende i gruppi 1a e 2a con gli elementi che hanno l'ultimo elettrone in un orbitale s il blocco p che comprende i gruppi dal 13 al 18 ovvero dal 3a al 8a e quindi gli elementi che hanno l'ultimo elettrone in un orbitale p abbiamo poi il blocco d che comprende i gruppi dal 3 al 12 con gli elementi che hanno l'ultimo elettrone in un orbitale d e infine il blocco f con gli elementi che hanno l'ultimo elettrone in un orbitale f osservando bene la tavola possiamo notare che le configurazioni elettroniche vanno un po a spiegare l'organizzazione della tavola stessa per quanto riguarda il concetto di configurazione elettronica e per come la si va a determinare ti consiglio di riguardare il video precedente in ogni caso adesso vedremo la configurazione elettronica esterna di un atomo questa infatti corrisponde alla disposizione dei soli elettroni di valenza che sono quelli che appartengono al guscio di valenza che abbiamo definito prima il numero di elettroni di valenza degli elementi rappresentativi appartenenti ai gruppi che vanno da 1a ad 8a corrisponde al loro gruppo di appartenenza il livello di valenza infatti nei gruppi rappresentativi è caratterizzato dal progressivo riempimento degli orbitali s e p e vediamo infatti come gli elementi del gruppo 1a avranno un elettrone di valenza disposto nel sottolivello s gli elementi del gruppo 2a ne avranno due quindi avranno due elettroni di valenza disposti nel sottolivello s dal gruppo 3a al 8a inizia invece il progressivo riempimento del sottolivello p gli elementi del gruppo 7a avranno per esempio 7 elettroni di valenza di cui 2 disposti nel sottolivello s e 5 nel sottolivello p ci sarà poi il riempimento dei sottolivelli d ed f e questo sempre seguendo l'ordine definito dal diagramma delle energie una cosa importante è che la base logica del sistema periodico sta nella periodicità della configurazione elettronica esterna degli atomi che si riflette nella periodicità delle loro proprietà fisiche e chimiche che adesso andremo ad analizzare secondo il modello ondulatorio dell'atomo la natura ondulatoria degli elettroni rende difficile definire con esattezza il significato di dimensione di un atomo la nube elettronica infatti non ha un confine ben definito e quindi non è possibile determinare con precisione il confine di un atomo d'altra parte gli atomi e gli ioni si comportano come se avessero delle dimensioni ben determinate noi andiamo a definire le dimensioni di un atomo in termini del suo raggio atomico ovvero della semidistanza tra i nuclei di due atomi adiacenti o meglio per convenzione il raggio atomico è la metà della distanza tra i nuclei di due atomi dello stesso elemento in una molecola biatomica la dimensione atomica aumenta lungo i gruppi dall'alto verso il basso perché in un gruppo dall'alto verso il basso va a aumentare il valore di n e quindi il guscio orbitalico in corso di riempimento è più distante dal nucleo invece la dimensione di un atomo diminuisce da sinistra a destra lungo i periodi perché procedendo da sinistra a destra aumenta il numero di protoni nel nucleo e quindi a sua volta la capacità di attrazione del nucleo nei confronti del guscio che è ancora in riempimento abbiamo capito quindi che le proprietà di un atomo sono determinate dalla configurazione degli elettroni di valenza dell'atomo stesso e la stabilità degli elettroni più esterni si riflette direttamente nelle energie di ionizzazione dell'atomo l'energia di ionizzazione è l'energia necessaria per allontanare un elettrone da un atomo o ione gassoso nel suo stato fondamentale questa energia quindi è semplicemente l'energia in kJ necessaria per strappare una mole di elettroni da una mole di atomi gassosi e parliamo sempre di atomi gassosi dal momento che un atomo in fase gassosa è virtualmente libero dall'influenza degli atomi vicini e in questo modo non ci sono delle forze intermolecolari di cui tener conto nella misura dell'energia di ionizzazione per energia di ionizzazione si intende quindi la misura di quanto gli elettroni siano fortemente trattenuti in un atomo e più questa sarà alta più difficile sarà rimuovere l'elettrone per gli atomi polielettronici si va a definire anche una energia di prima ionizzazione e una di seconda ionizzazione l'energia di prima ionizzazione è l'energia necessaria per strappare l'elettrone più esterno a un atomo neutro e questo sempre nello stato gassoso mentre invece possiamo avere una energia di seconda ionizzazione quando andiamo a strappare l'elettrone più esterno a un catione con carica più 1 a cui quindi è già stato sottratto un elettrone e dato che la carica nucleare rimane costante sarà necessaria più energia per rimuovere un secondo elettrone da uno ione che è quindi carico positivamente sulla tavola periodica l'energia di ionizzazione a cui si fa riferimento è l'energia di prima ionizzazione e questa va ad aumentare dal basso verso l'alto in un gruppo e da sinistra a destra in un periodo un'altra proprietà che influenza il comportamento chimico degli atomi è la loro capacità di accettare uno o più elettroni questa proprietà è detta affinità elettronica ed è definita come l'energia liberata da un atomo o da una molecola quando un elettrone viene aggiunto alla sua configurazione e questo quando questa molecola si trova in uno stato neutro isolato in forma gassosa andando a formare quindi uno ione negativo l'affinità elettronica è generalmente espressa in kJ per mole e può essere considerata quindi come la variazione di energia dovuta all'aggiunta di una mole di elettroni a una mole di atomi o ioni gassosi l'aggiunta di un elettrone a un atomo neutro di un elemento è quasi sempre un processo esotermico e i valori di affinità elettronica sono quindi negativi per convenzione quindi andiamo a cambiare il segno della variazione di energia e per quanto riguarda l'affinità elettronica l'andamento generale comporta un aumento nella tendenza ad accettare elettroni da sinistra verso destra in un periodo e tende ad aumentare dal basso verso l'alto nei gruppi descrivendo un andamento che è simile a quello dell'energia di ionizzazione che abbiamo visto prima dobbiamo infine considerare l'elettronegatività questa è definita come la tendenza di un atomo ad attrarre su di sé gli elettroni di legame questa è una grandezza adimensionale il cui valore si esprime tramite una scala che va da 0 a 4 e l'elettronegatività aumenta lungo i periodi e diminuisce lungo i gruppi benissimo detto ciò si conclude il video di oggi ti consiglio di iscriverti al canale per non perderti i prossimi contenuti e di lasciare un like a questo video se ti è stato d'aiuto ti ringrazio come sempre per l'attenzione e a presto da about biology grazie a tutti grazie a tutti